Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andiamo a parlare dell'attrezzatura per pernottare in ambiente outdoor del marchio Decathlon. Nel particolare ho qua i loro sacchia pelo, i loro materassini, vedremo soprattutto come abbinarli per risparmiare e soprattutto dormire al caldo. Ma iniziamo col video. Iniziamo parlando dei sacchia pelo che Decathlon mette a disposizione sul mercato. Generalmente ne troviamo di 5 tipi, quello da 0 gradi, 5 gradi, 10 gradi e poi ci sono anche il 15 e il 20 che purtroppo non ho qua. Come vedete ci sono tanti sacchi a pelo, tutti questi sacchi a pelo sono disponibili anche in diverse taglie in base alla vostra altezza e teniamo a mente che queste temperature sono prese su una donna, quindi se siete degli uomini dovete pensare a queste temperature meno qualche grado. Diciamo che un sacchia pelo da 10 gradi, per esempio, per l'uomo sarebbe da temperatura comfort attorno ai 7,8. Per quanto riguarda i materassini invece ho qua il modello Trek 700 e il modello MT500. Il modello Trek 700 ha un valore R di 1,5. Questo cosa vuol dire? Che possiamo utilizzarlo diciamo fino a 7,8 gradi, più o meno. Il modello invece MT500 ha un valore R di 3,3. Questo vuol dire che possiamo utilizzarlo sicuro fino agli 0 gradi. Osando un pochino potremmo arrivare anche a meno 1, meno 2. In generale comunque tra tutti i materassini di Decathlon questi due sono quelli che più vi consiglio di acquistare. Arriviamo però a vedere come accoppiare il sacchia pelo con i materassini prendendo come primo caso ad esempio un cammino a bassa quota come possono essere la via Francigena oppure il cammino di Santiago. Se dovete dormire all'interno di un alberghe o comunque di un B&B a parte che potreste utilizzare molto bene anche semplicemente un saccoletto. Ma se vorreste avere un pochino più di igiene e quindi andare direttamente su un sacco pelo vi consiglio o il modello da 20 o il modello da 15 gradi. Dipende un attimo quando decidete di fare il vostro cammino ma sicuramente non andrei su quello da 10 gradi. Se poi doveste aver bisogno di un matrassino perché magari in un particolare B&B vi danno solamente la possibilità di avere il tetto sopra la testa e poi dovete portarvi voi sia matrassino che sacco pelo vi consiglio il Trek 700 perché con la sua temperatura comfort di 7-8 gradi se noi dormiamo a 15-20 gradi va decisamente bene. E poi tra i due anche il più piccolo e il più leggero. Prendendo come caso invece un cammino collinare montano diciamo dove la notte tendiamo a dormire sotto comunque mille metri che può essere una via degli dei oppure una via del sale eccetera vabbè se lo fate sempre in B&B ci sta ancora da prendere il sacco pelo da 15 o 20 gradi in base a quando lo fate. Se invece volete farlo in tenda il mio consiglio è di prendere un sacco pelo da 10 gradi e di abbinarlo sempre col modello Trek 700. Questo perché entrambi in base alle loro caratteristiche possono garantirci di dormire sia comodamente che soprattutto al caldo fino a 7-8 gradi. E di solito come temperatura comfort per questi tipi di cammini può bastare. Arriviamo ora invece a parlare di cammini di media montagna quindi magari dove di notte dormiamo tra i 1200 e i 1800 mi vengono in mente un po' di alte vie mi vengono in mente anche cammini un pochino più montani in questo caso vi consiglio di optare per un sacco pelo da 5 gradi 5 gradi perché è davvero la notte in quei casi può scendere abbastanza la temperatura. E soprattutto cambiamo il materassino non va bene più il Trek 700 ma passiamo all'MT 500 questo perché col suo valore R di 3,3 è decisamente adatto a questo tipo di trekking quindi in questo caso siccome questa è l'accoppiata vincente. Se poi invece doveste andare a fare dei trekking delle alte vie anche ad alta quota quindi diciamo a delle quote che possono essere dai 2000 ai 2005 soprattutto d'estate in tenda il mio suggerimento è quello di puntare su un sacco pelo da 0 gradi 0 gradi perché comunque anche se siamo ad estate a questa quota di notte le temperature possono scendere parecchio in questo caso ci abbiniamo sempre il nostro MT500 che come vi dicevo quando siamo a una temperatura comfort attorno ai 0 gradi va super bene con questi due diciamo che potremmo dormire fino a una temperatura di meno 2 gradi e comunque come range di temperatura in caso dovesse scendere nettamente la notte perché fa un pochino più freddo ci dà un'ottima garanzia ma cercando di semplificare ancora di più e cercando di aiutarvi ancora di più a capire come abbinare i sacchi a pelo con i materassini andiamo a dividerli per due famiglie diciamo la famiglia sopra i 10 gradi e la famiglia sotto i 10 gradi per quanto riguarda i sacchi a pelo da 10, 15 e 20 gradi saranno sempre da abbinare col modello Forklats Trek 700 di materassino volendo potreste abbinarlo anche col modello MT500 perché comunque a livello temperature possono andare bene però sinceramente io non ve lo consiglio perché il MT500 è un pochino più grosso un pochino più pesante del Trek 700 non ha senso portarsi dietro qualche grammo in più in questo caso davvero l'MT500 è quello migliore da abbinare famiglia invece sotto i 10 gradi quindi il sacchi a pelo magari da 0, 5, meno 5 gradi li abbiniamo sempre col materassino modello Forklats MT500 questo perché come dicevo come temperatura questo va bene fino ai 0 gradi e questa è la combinazione migliore non fate mi raccomando l'errore di prendere il sacco a pelo da 0 gradi e il materassino Trek 700 solo per risparmiare qualche grammo sul materassino questo perché in questo caso il materassino non andrebbe bene per quella temperatura non ci isolerebbe dal terreno e anche se abbiamo un sacco a pelo da 0 gradi al 90% di notte avremmo freddo perché non saremmo ben isolati dal terreno detto ciò ragazzi io ne ho speranza di avervi aiutato da scegliere la vostra prossima attrezzatura per il vostro prossimo cammino o trekking vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao